Io spero, a brevissimo, visto e considerato, anche se qualcuno dice che è contro la mia decisione e noi non facciamo una legge per la morte, ma facciamo una legge per la vita, dare l'opportunità a molte coppie di avere un figlio. Si è deciso di andare avanti con le linee guida e quindi fare in modo che l'eterologa diventi una realtà, quindi colmare questo vuoto legislativo. Ma guardi, per quel che ci riguarda noi siamo convinti che comunque l'incidenza, ad esempio per la mia regione, sarà di massimo 500 casi e sarà trattata come una cura normale e quindi penso che si arriverà a stabilire un ticket uguale a livello nazionale per tutti.